Bella ragazzi, bella ragazzi qui, Tom Umere e benvenuti al video sulle pistole mitragliatrici. In questo video userò una pistola mitragliatrice diversa ogni round e ne spiegherò i punti forza, i punti deboli e le mie opinioni. I miei bonus saranno Maratona Pro, Poter Arresto Pro e Ninja Pro e in questo caso sto usando un MP5K silenziato e niente, cerco di prevedere dove vanno i nemici così che possano andare dietro e inculare la sangue, sì, ecco. Qualcosa sull'MP5K, l'MP5K silenziato è un'ottima arma perché non ha un rinculo, assurdo, perché normalmente sembra di tenere un trappano pneumatico tra le mani, e un trappano pneumatico, ma che cazzo dico martello pneumatico, no? L'MP5K ha un rate di fuoco altissimo, però non fa molti danni, quindi consiglio di usare potere d'arresto. Poi consiglio di usare il silenziatore, come ho detto, e se proprio volete gli FMJ con potere d'arresto ammazzano velocemente, anche fuoco rapido ammazza proprio velocemente. Tuttavia non consiglio di usarlo tipo se devi sparare da una parte all'altra della mappa, quindi non per mettersi con le claymore così, ma solo per correre in fronte alla gente e ammazzarla. Ma questo è quello che ho da dire sull'MP5K, insomma, ditemi voi quello che pensate su ogni mitraglia, così io la chiamo mitraglietta, le pistole mitragliatrici, nei commenti. Poi, in questa parte qua invece userò il Vector durante questo round, il Vector con fuoco rapido, sì perché fuoco rapido ne aumenta ancora di più il ratio di fuoco. Già il Vector di suo ha un ratio di fuoco altissimo e con fuoco rapido ammazza proprio velocemente, figurarsi con potere d'arresto poi, no? Le mie ricompense uccisioni sono UAV, Predator e Aerie e niente, uso un equipaggiamento diverso ogni volta, qui uso una Semtex, prima usavo la Claymore ma alla fine non so se la userò neanche la Semtex. Consiglio di usare con il Vector mirastabile, anche se non la sto utilizzando, perché anche senza mirare ammazzate molto più velocemente, no? E niente, sono felicissimo che vi sia piaciuto il video con i miei amici, ci siamo divertiti un casino e ne faremo un altro sicuramente, lo uploaderò anche a Macchinima, probabilmente. E Favela, parliamo di Favela, Favela è una mappa che mi piace molto, non so, è tutta l'idea delle case così. E però, ecco, una cosa col Vector, il Vector non è un'arma con cui bisognerebbe ammazzare la gente da lontano, perché come l'MP5K è molto sprecisa. Se vogliamo ammazzare una persona da lontano, preferirei usare un UMP, una P90 forse, e un Mini Uzi, no? E dunque arriviamo all'UMP, l'UMP silenziato è un'arma che, non so, io l'amo troppo, mi diverte troppo da usare, e credo che tutti l'amino, perché ha danni alti, è precisa, ha un buon ratio di fuoco, e non lo so, io l'amo, insomma. Ehm, non ci sono grandi problemi sull'UMP, credo che tutti sappiate come usarlo, e credo che sia la vostra preferita. Ehm, cos'altro? Le pistole mitragliatrici, secondo me, sono la seconda classe più forte, la seconda, diciamo, famiglia di armi più forte, dopo i fucili di assalto, che in Call of Duty Modern Warfare 2 dominano, insomma. Lo sappiamo tutti. Questa partita finirà con 9 uccisioni e 2 morti, ma, vabbè, il ratio, vabbè, è di più o meno 4 e mezzo, spero che vi vada bene, però, più che altro, era proprio per farvi vedere qualcosa di nuovo, di fresco, di divertente, perché, quando mai vedete una persona usare 5 armi diverse durante una partita, no? Ehm, niente, se volete vedere altre guide di questo genere, tipo, ne farò una con i fucili d'assalto, parte 1 e parte 2, i cecchini, mitragliatrici leggere, e... voi ditemi cosa volete, io provvederò, no? Ehm, insomma, l'UMP abbiamo detto i punti di forza, che sono, eh, tutti, più o meno, tranne la rate di fuoco che non è altissimo, e ora passiamo a, eh, il mini Uzi dovrebbe essere. Il mini Uzi è un'arma fantastica, che però anche lei le sue debolezze, non come l'UMP, infatti il mini Uzi, eh, ha un ratio di fuoco abbastanza alto, però non ha molti danni, qui il commando che tipo attraversa le Claymore, ma, vabbè, eh, non fa molti danni, ma, comunque, è forte per il ratio di fuoco e non, non balza molto, quindi usateci il potere al resto e dovrebbe andar bene. Eh, la P90, invece, è un'ottima arma, eh, consiglio di usare un silenziatore, almeno non, eh, non ha un gran rinculo, e poi, eh, con la P90, potere al resto e mira stabile vanno benissimo. La cosa che preferisco della P90, e per cui la uso spesso, è proprio perché ha, eh, questo caricatore che è enorme, e quindi mi facilita molto di più le cose. Comunque, il video sta per finire, siamo 8, 9, 1, 9, 2, qua, uno con la CR Cardio mi ammazza, e, niente, ragazzi, se volete vederne altre, ditemelo, iscrivetevi al mio canale, bella!